Eccoci di nuovo insieme, bentornato! In questo video ti faccio vedere come modificare due cosette all'interno del nostro blog, se vorrai poi utilizzarlo anche davvero come tuo blog personale per scrivere quello che ti va e condividerlo con i tuoi contatti. E poi ti farò vedere come copiare e incollare un link all'interno del nostro blog. È veramente facile, prima di tutto ti voglio portare qui dove c'è Layout, no scusami, su Modello, eccolo qua, Modello. E qui vedi che ti fa, ti esce fuori un'anteprima di com'è il tuo blog adesso, ti ricordo ho appena pubblicato un articolo al volo qua. E qui vedi possiamo cambiare il tema del nostro blog, ad esempio, non so, puoi anche proprio vederli in anteprima, quindi scegli quello che più ti piace. Ne avevo trovato uno carino, ad esempio questo, nero, vedi? Quindi per esempio, vedete, li puoi guardare, se non ti piace lo chiudi qui in alto. E te ne vai a vedere un altro, ad esempio, prendiamo questo, vediamo com'è. Sì, così mi piace, va bene? E metto Applica al mio blog, boom! Ok, così lo faccio anche più carino, se ti va, andiamo a visualizzarlo. Eccolo qui, vedi? Quindi ti puoi cambiare un po' i colori così, ti puoi cambiare il tema e mettere quello che più ti piace. Un'altra cosa carina che puoi fare andando qua su Layout, vedi? È andando qui su Intestazione, vedi? Vado su Modifica e qui posso cambiare quello che viene compare, quello che compare in alto come titolo del mio blog, va bene? Quindi non so, se non ti piace il blog di Matteo, posso mettere il blog di Matteo Pettaluga, va bene? Come immagine posso anche scegliere un'immagine, va bene? Quindi se hai un'immagine sul tuo computer, chiaramente non deve essere un'immagine enorme, deve essere una roba rettangolare un po' così, puoi anche cercarle in Google alcune immagini se ti va. Però qui, vedi, puoi sceglierne una. Tipo, non so, metto questa casa bellissima, che ce l'avevo sul computer salvata. Vedi? Metto Salva. E andando qui su Visualizza il mio blog, vedi che mi esce il blog di Matteo Pettaluga, c'è l'immagine. Vedi? E poi sotto ci sono tutti gli articoli. Quindi, vedi, puoi inserire un'immagine, chiaramente questa è enorme, però non è bruttissima, va bene? È carino, appena entri così. Chiaramente questa è molto grossa, però se trovi un'immagine un po' più orizzontale, è un po' più stretta, magari un po' più così, un po' più rettangolare di questa, va benissimo, va bene? Quindi qui puoi modificare l'immagine in alto nell'intestazione, puoi modificare il titolo del tuo blog in questa sezione. Un'altra cosa carina qua, dove c'è Footer 1, puoi mettere Aggiungi Gadget e andando in basso, dove c'è Testo, lo selezioni e ci metti, ad esempio, i tuoi contatti, no? Qua è carino, secondo me, perché questo ti comparirà in fondo alla pagina. Quindi contatti, metti ad esempio la tua email, Matteo Pittaluga, metto questa, info, chiocciola, matteopittaluga.com, va bene? La evidenzio anche. Ok. Qua vedi salva e andando qui su visualizza blog, andando in basso, vedi che mi compare il mio contatto. Quindi così puoi mettere anche i tuoi contatti se ti va alla fine. Te lo rifaccio vedere, basta che vai su Footer 1, qui, fai Aggiungi Gadget e aggiungi un testo. Adesso non mi esce più perché l'ho già inserito, magari, vedi? Ho aggiunto testo, questo qui, e poi andando su Modifica ci inserisci i contatti e i tuoi contatti. Queste qui sono un po' le cose, diciamo, iniziali per modificare un po' il tuo blog. L'unica cosa da fare poi di fatto nel nostro lavoro quotidiano è andare qui dove c'è Post, Nuovo Post, e poi andiamo su Tap, nella sezione dello scambio di traffico, sulla Traffic Exchange. Andiamo a selezionare Link, fai una ricerca e qua ti escono solamente i link, appunto, da copiare e incollare sui blog. Puoi anche usare, ad esempio, vedi, lo strumento proprio di ricerca, se vuoi cercare qualcosa di specifico da inserire sul tuo blog, altrimenti prendi uno di quelli che ti escono, per esempio questo, ci clicco, spunto la casella Non sono un robot, qua mi dice Selezione riquadri con i cartelli stradali, non vedo molti cartelli stradali qua, infatti la sbaglierò, ecco, cartelli stradali. Vediamo se riesco a superare questa verifica di Google, ce l'ho fatta. Eccolo qui, vedi? Questo qui è un link da condividere sul tuo blog. Tutto quello che devi fare è selezionare tutto quello che c'è qui, puoi cliccare col tasto destro del computer, anche mettere Seleziona tutto. Qua se ti esce questa cosa qui da tap, chiudila, va bene, chiudila, perché se non hai ancora selezionato il tuo link è inutile che vai lì. Vedi, lo copi, va bene? E poi qua ti dice anche, dovrebbe apparire così, cioè ti fa vedere come dovrebbe apparire qua sul tuo blog. Andiamo a vedere, no? Io copio tutto quello che c'è qua, vado sul mio blog, e quando vado a creare un articolo nuovo vado su HTML e lo incollo, va bene? Appena l'ho fatto, torno qui su scrivi, vedi? E mi è diventato esattamente come mi dicevano loro, guarda, vedi? Esattamente uguale a questo, guarda. Eccolo qui, vuol dire che ho fatto tutto bene. Gli do un titolo, tipo, devi guardare questo. Adesso me lo sono inventato, chiaramente, però è uguale, il titolo, mettici pure quello che ti piace di titolo. E poi vado su pubblica. Boom! Pubblicato. Adesso ho fatto un danno. Attenzione. Ok. Qua l'annullo perché non lo voglio condividere su Google, non mi interessa. Ed eccolo qui il mio articolo con il link condiviso, d'accordo? L'ultima cosa da fare è cliccare sul link, appunto, no scusami, ho sbagliato. Devi tornare sul tuo blog. Vai su visualizza il tuo blog. E qui ci sarà il tuo articolo, va bene? L'articolo che hai appena condiviso. Ci clicchi sul titolo dell'articolo. E vai a prendere il link che c'è qua in alto, va bene? Perché devi andare a prendere il link che c'è qua in alto? Perché questo qui è il link dell'articolo, va bene? È il link della cosa che hai appena pubblicato sul tuo blog. Poi torni su tap, vai su check link, clicchi qui e lo incolli qua. Perché questo? Perché così noi andiamo a prendere il link del nostro blog dove abbiamo incollato quel link che ci richiedeva di incollare e glielo mettiamo qua su tap, in questo modo loro se vanno a controllare verificano che lo abbiamo fatto veramente. Confermi e ti dirà, grande, hai cliccato, hai fatto la tua azione quotidiana, more ads, va bene? Ecco qui che ho fatto il mio primo copia e incolla di un link, va bene? Ne facciamo un altro? Dai, così te lo faccio vedere. Vado di nuovo sul link qua, cerca, prendo un altro link, questo qui ad esempio. Chiaramente tu se vuoi cerchi anche qualcosa che ti piace di più, se vuoi metterlo sul tuo blog. Spunto la casella di Google, clicco sui cartelli stradali, andiamo a vedere l'annuncio ed eccolo qua, va bene? Qua addirittura ti dice, questa qui è una roba lunghissima perché c'è anche una foto, vedi? È un bel link questo perché ti esce anche la foto. Vado a selezionarlo tutto, tac, copia, torno sul mio blog, dov'è? Eccolo qua. Vado sul nuovo post. E metto, non so, che ragazza sorridente, no? Vado su HTML, lo incollo, torno qua su scrivi, boom! E ce l'ho fatta anche stavolta, vedi? Non è assolutamente difficile, cioè è la roba più facile del mondo, ok? Se sei in grado di fare questo puoi fare dei soldi in questo business. Poi clicco su pubblica, l'ho pubblicato, va bene, annullo perché non lo voglio anche condividere su Google, ma sì dai, lo condivido anche su Google, guarda. Facciamo proprio le cose fatte bene, dai, una cosa extra che non mi costa nulla però. Perché ride questa ragazza? No? Condividi. Lo condivido anche su Google, ma non ci guadagno niente però aiuto questa pubblicità a farsi conoscere. Poi vado su visualizza blog. Clicco sul titolo del mio articolo e vado a prendere il link, eccolo qua, va bene? Vado a prendere il link del mio articolo con la condivisione che ho appena fatto e lo vado a incollare qua. Ah, qua c'è ancora il tempo che sta andando, perché in teoria dovresti anche vedere la pubblicità, non l'ho neanche guardata, direttamente ho copiato il link. E alla fine del tempo ti dice, incolla l'indirizzo qua, perfetto, conferma, grande, ed è uscita la cosa che ho fatto, il click. More ads e vado a fare il terzo, va bene? E questi qui sono i nostri compiti da fare ogni giorno, va bene? Ti ricordo che sono tre click per vedere le pubblicità, tre condivisioni su Twitter, tre condivisioni su Facebook e tre copie e incolla di un link sul tuo blog, esattamente come ti ho fatto vedere qui. Quindi caro amico, se non l'hai ancora fatto, crea il tuo blog con Blogger, copia e incolla i tuoi tre link al giorno e in questo modo, facendo anche tutte le altre azioni, ti qualificherai al 100% della divisione dei profitti qui su The Advert Platform. Ti mando un abbraccio grande, crea il tuo blog, copia e incolla i tuoi link, aiuta tante aziende a farsi conoscere, a salire su Google e guadagna dei soldi anche tu in The Advert Platform. Un abbraccio grande e a prestissimo!